la frusta in pasticceria in generale a cosa serve serve eventualmente a sbattere leggermente ma più che altro serve a montare serve ad inglobare aria è l'attrezzo ideale e che si deve utilizzare quando ad esempio vado a lavorare un pan di spagna non vado a usare uno scudo non ha senso lo scudo si utilizza quando vado invece ad amalgamare o a fare lavorazioni come la frolla vado invece ad usare il gancio quello fatto ricciolino o ad uncino quando devo andare a incordare quindi vado ad utilizzare il gancio quando vado ad esempio fare una colomba grande lievitato vado incordare l'impasto di una pizza di una caccia del pane in generale quando comunque devo andare a formare una struttura di maglia glutinica quindi devo andare a fare un'estensione a renderlo elastico e avere la capacità tipica dell'impasto del pane del tipo della focaccia della colomba del panettone questi stessi attrezzi sono equivalenti anche per quanto riguarda non soltanto l'utilizzo della planetaria li possiamo andare anche a ritrovare nel classico nelle classiche ruste elettriche dove ci sono le diverse le diverse forme a ricciolo stesso discorso è vero si parla di quantità molto più piccole ma la stessa funzione se devo andare a fare una lavorazione non voglio andare a farlo a mano ad esempio voglio andare a fare una pasta brioche con la frusta elettrica vado ad usare il gancetto i due gancetti quelli paralleli a ricciolo vado a fare il la montata per il pan di spagna vado a farlo con quello con i quattro fili che si che si intersecano c'è differenza più sottile sono i fili più capacità montante a maggiore sono grossi fili più fatica faccio tuttavia sono in grado benissimo ad esempio di andare a fare tranquillamente anche con un frustino elettrico un bignè tranquillamente senza alcun tipo di problema non è fondamentale avere ad esempio una planetaria a fare tranquillamente